Nuova lettura divertente, nuova illustrazione tratta dal libro. Oggi vi parlo delle avventure del topino desferò, la storia di un topolino piccolo e con le orecchie grandi innamorato di una principessa umana. Ho realizzato un'illustrazione dopo averlo letto e adesso vi faccio vedere tutto il processo e naturalmente l'illustrazione finale. Grazie a tutti.